Proprio io ma perché? Se per tre stati in aria hai vettuto Gesù, certo tu l'hai tradito, hai tradito Gesù. Proprio io ma perché? Proprio io ho una stretta nel cuore, proprio io sento troppo dolore, mi perseguita sempre il rimorso quaggiù. La mia vita non vale, non vale non più. Ti persegui da sempre il rimorso quaggiù perché tu l'hai tradito, hai tradito Gesù. Perché tu l'hai tradito, hai tradito Gesù. Proprio io ma perché? 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 Grazie a tutti